Qualcosa oggi non ha funzionato perché era una scuola diversa dal solito merito del Termo o del merito della Paganese? No, direi solo il primo tempo abbiamo subito la loro qualità, ma lo sapevamo perché Termo ha tanti giocatori con espressioni qualitative molto elevate, soprattutto dal centrocampo in su. Il primo tempo l'abbiamo subito, il secondo tempo a mio avviso la squadra ha reagito con grande vehemenza, con grande personalità, anche con grande lucidità. C'è il rammarico per il risultato, però il Termo ha meritato la vittoria per quanto è espresso soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo avete cambiato qualcosina anche dal punto di vista tattico, più offensivi, è questo un po' che vi è mancato nel primo tempo? È normale, eravamo sotto di due reti ed era ovvio cercare di rischiare qualcosa, anche lasciando un po' l'uno contro uno dietro. Era normale che subissimo qualche contropiede, però la squadra si è comportata contro un avversario di qualità, ha fatto la sua partita, è arrivata fino in fondo a giocarsela fino all'ultimo istante. Quindi dimostrazione ancora una volta che la Paganese di quest'anno vuole essere protagonista fino alla fine contro chiunque. Mister, siete rimasti sorpresi dal primo tempo del Teramo, magari vi aspettavate una squadra più in difficoltà, più in crisi, visti i risultati dell'ultimo periodo? No, anzi, quando c'è un momento di difficoltà c'è sempre quella rabbia, quella voglia di andare a cercare qualcosa di diverso, quindi assolutamente non c'era nessuna sorpresa perché basta vedere la rosa dei giocatori che compongono il Teramo e tra l'altro ho visto anche alcune partite che abbiamo fatto. E' ovvio che nell'episodio era stato anche poco fortunato, quindi è normale che quando poi non si ottiene il risultato a volte i commenti sono negativi, ma io ho visto anche altre buone prestazioni. Stasera primo tempo è stato a pannaggio loro, secondo tempo noi siamo stati bene dentro la partita fino alla fine, complimenti a loro, a noi complimenti anche ai miei giocatori perché hanno dato tutto fino alla fine. Dopo il calcio di regole trasformato si aspettava qualcosina in più dai suoi per cercare di pareggiare? No, abbiamo messo due o tre palle pericolose, abbiamo spinto fino alla fine, abbiamo creato comunque suspense, una squadra forte, ci abbiamo provato fino alla fine, rammarico fino a un certo punto perché quando si perde c'è sempre rammarico, però c'è anche la consapevolezza che la squadra ha dato tutto quello che aveva.